Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi mostrerò la mia piscina con tantissima felicità e vi auguro buona visione. Bene ragazzi, eccoci qua con la nostra piscina bellissima, che io aspettavo un sacco di tempo che è arrivata e finalmente ora è qui, anche se già è arrivata tra un po' di giorni, però questo non fa niente che lo dico. Però sinceramente mi piace molto, guardate qua lo scatolo, che bello, questa è questa foto che mi piace tanto, come vedete qua è un po' rotto, però non fa niente. E qua c'è questo simbolino che non so ovviamente cosa significherà. Ah, e poi guardate sopra, intanto è indovinata cosa c'è scritto qua, che io non so leggere, se questa è leggere scrivetelo qua sotto nei commenti. Ok ragazzi, sono sicuro di dire che questa piscina è bellissima, è gonfiabile. Wow, c'è l'appoggio a schiena, c'è i sedili dove si può appoggiare. Poi guardate qua che c'è scritto, voi capite qualcosa qua, intanto qua ci sono scritte le estruzioni, estruzioni, capite qualcosa? E poi qua ci sono scritte delle altre cose che proprio non so cosa significheranno. E poi qua ci sono scritte, tavolo ragazzi, non è capito qualcosa, quasi al contrario, io non so. E poi qua c'era quella che abbiamo visto prima che avevo fatto un altro video qua, la storia che poi avessi cancellato. S.B. però l'hai fatto al contrario. Ecco qua le dimensioni della piscina ragazzi, sono davvero davvero bellissime, perché ho dell'arca, sono contento di questa cosa. Ok, bene ragazzi, questo video è finito qua, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate qua sotto la campanella per non perdervi tutti gli altri video. E vi arriverà a casa la notizia di quando apriremo questa bellissima piscina e lasciate un commento. Mi raccomando, mi raccomando, ciao e un mi piace, ciao!